Certi genitori litigano anche in estate per la gestione dei figli durante le vacanze. Ora, per quanto riguarda l'affidamento condiviso e i tempi di permanenza dei figli presso i genitori, anche i periodi pasquali, natalizi e le vacanze in estate hanno un senso, hanno un valore. Ebbene dovete sapere che noi avvocati in questa fase siamo oberati di un lavoro incredibile, che è quello di mettere d'accordo le parti, perché magari uno dei due ha deciso, si è svegliato una mattina che il padre o la madre debbano stare meno tempo con i figli in una località di vacanza. Ecco, tutto questo è inconcepibile, dimostra la immaturità di molti genitori a essere tali, i veri nemici dei figli, spesso sono i genitori. Poi si pongono quelle questioni di genitori che cambiano e scambiano nuovi partner continuamente e coinvolgono nei figli le nuove fidanzate e le nuove fidanzate. Ci vuole un po' di dignità, perché si possono avere nuovi compagni e nuove compagne, ma non si possono cambiare come calzini e coinvolgerli continuamente nella vita dei figli in andarci a fare anche le vacanze. Per essere genitori bisogna avere la dignità e l'amore per i propri figli.